Potere assegnato, cambiare le cose a tuo favore. Quindi, posso comandare io? Avvertenze, ci saranno delle conseguenze. Ah, ecco. E vabbè, cosa vuoi che sarà? Di sicuro mi divertirò. Hai sentito, Ramsca ha invitato Elena al ballo e non te. Chissà quanto sarà felice, ma tutto questo io lo cambierò. Conseguenza, prurito in tutto il corpo. Ai, non è possibile. Uff, è sparito. Ok, credo che potrò continuare a sopportare questo. Ragazzi, quest'anno la responsabile del ballo sarà Elena. Cosa? No. Conseguenza, l'orizio è starnuto. Di certo non cambierò le cose e ciò, dire queste conseguenze. Nicola, ho appena visto i tuoi ultimi voti, non andrai al ballo. Conseguenza. Di certo non cambierò le cose e no senza di più. Ancuncia. Per quanto tempo, non cambierò le cose.